all'Ivetro di Manfredonia. L'importante azienda che si è insediata nel territorio di Manfredonia grazie allo strumento del contratto d'area e finanziato successivamente, abbondantemente, con ulteriori protocolli aggiuntivi, ha annunciato la progressiva fermata degli impianti nel novembre 2014. Successivamente, il 29 novembre, ha spento il forno fusione, di conseguenza lo stop alla produzione del vetro. Sono quasi in questa vicenda 350 persone, gli operai e l'indotto, che stanno soffrendo privi di qualsiasi stipendio da oltre un anno. Che intende fare il Governo per riprendere questa iniziativa per salvare il Sangali di Manfredonia? La ringrazio. Adesso la Ministra dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, a facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Io rispondo all'onorevole Cera che non è caduto il silenzio, nel senso che in realtà io vorrei qui confermare che le vicende del Gruppo Sangali sono in realtà seguite con molta attenzione dal Ministero Sviluppo Economico, presso il quale in realtà è attivo già da tempo un tavolo tecnico di confronto fra tutte le parti, proprio per esaminare le problematiche degli stabilimenti produttivi del Gruppo. Lei sa che la filiera del vetro è una delle eccellenze della nostra industria, con quasi 5 milioni di tonnellate di produzione vetrale e circa 20 mila occupati in Italia. Quindi noi in quest'ottica stiamo ponendo un'attenzione particolare a una realtà che, come lei diceva, riveste un ruolo importante soprattutto per l'economia del territorio che la ospita, ma non solo. L'azienda, come lei sa, purtroppo ha presentato ricorso per l'amministrazione al cosiddetto concordato prenotativo presso il Tribunale di Treviso per le società Sangalli-Vetro Manfredonia, Sangalli-Vetro Magnetoronico e Sangalli-Vetro Satinato. Il 24 luglio 2015 l'originale istanza è stata ammessa la procedura di concordato liquidatorio. Purtroppo le manifestazioni di interesse comunicate all'ufficio commissariale e alla proprietà hanno avuto tutte come oggetto ipotesi di acquisizione di singoli beni della Sangalli e non dell'intero complesso produttivo. Per questo il Mise, anche in accordo con le organizzazioni sindacali, sta lavorando proprio per cercare una soluzione che conduca a una cessione unitaria, che eviti naturalmente il più possibile questo frazionamento. In quest'ambito, da alcuni mesi il Ministero sta proprio verificando la praticabilità di soluzioni per la cessione degli stabilimenti proprio di Manfredonia nella loro interezza. Per quanto riguarda poi la questione occupazionale, con il decreto direttoriale dell'11 novembre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la concessione del trattamento di cassa integrazione e guadagni straordinaria per 170 dipendenti per il periodo dal 24 luglio 2015 al 23 luglio 2016. Quindi il Ministero continua e continuerà a seguire questa vicenda con la massima attenzione, mantenendo naturalmente aperto il tavolo di confronto e ovviamente cercando una soluzione che possa garantire la riapertura e la continuità dell'attività nel suo complesso e naturalmente il mantenimento dei livelli occupazionali. Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Angelo Cera, a due minuti. Signor Ministro, fa bene a preoccuparsi perché in questa vicenda è in gioco la credibilità dello Stato. Il contratto d'aria di Manfredonia, che ha visto su Manfredonia piovere milioni e milioni di euro, che poi oggi c'è il deserto, lo possiamo, ha visto proprio nella Sangalli-Vetro una di quelle società che più di ogni altro, come si suol dire, è stata aiutata attraverso contratti aggiuntivi. Per cui, lei mi dice, c'è in questo momento un'azione di...